La scelta dell'attuale amministrazione di Castione della Presolana va nella direzione di implementare quelli che sono i servizi nell'Unione. Voglio ricordare che il servizio di polizia era il primo servizio quando è nata l'Unione Comuni, quindi è nata l'Unione Comuni con il servizio di polizia locale unificato per tutti i sei comuni. La notizia è importante anche perché è il segnale che la nuova amministrazione di Castione vuole andare nella direzione di migliorare sempre più quelli che sono i rapporti con tutti gli altri comuni dell'Unione, quindi vuol dire potenzialmente implementare anche i servizi gestiti dall'Unione Comuni per tutti i comuni. Quindi per quanto riguarda l'Unione dei Comuni della Presolana mi sembra di capire che non ci saranno problemi. No, la notizia sicuramente è positiva per noi ed era anche auspicata, quindi siamo contenti che da quello che avevamo sentito in campagna elettorale si passa ai fatti e quindi si stanno mettendo le basi per poter riportare i vigili di Castione all'interno del corpo dei vigili dell'Unione. Ci sarà qualche sostanziale cambiamento? Stiamo portando avanti delle valutazioni, in questo caso i rapporti li sta tenendo l'assessore dell'Unione competente che è il sindaco di Rovetta che insieme al sindaco di Castione sta portando avanti, come dicevo, tutti gli aspetti tecnici e burocratici. Variazioni al momento non posso dire se ce ne saranno, però se ci saranno variazioni saranno in un'ottica di miglioramento dei servizi.